Eccomi qua, ciao colleghi, oggi iniziamo questa nuova trasmissione dal gruppo Callori Aistile una proposta, un'idea per tutti i colleghi interessati al progetto Musicando PNL qui a Tenevife approfondendo le conoscente che possono richiedere l'iscrizione a francescocallori.com nel mio blog leggendo il brand Musicando cerco sempre di spiegarlo tecnicamente ai colleghi che fanno questo mestiere da tantissimo tempo in questi sei anni, risiedendo qui a Tenevife ho evoluzionato un pensamento per migliorare la qualità della bellezza delle persone e intonse, come dicono qua, vorrei riaggregare un pochino di parrucchiere amici di tutti quelli che conosco in Italia e non riattivare questo laboratorio di ricerca perché il concetto è sempre che ogni persona crea la sua fotografia dalla sua immagine, dalle sue esperienze e mi sono accorto che verso i 50 anni nasce sta sofferenza e le persone non rimangono mai soddisfatte per come noi tagliamo i capelli come proposta, eccetera. Allora, per tagliare la testa al toro ho seguito un pochino la PNL e ho approfondito come funziona l'essere umano e sto portando avanti questo concetto di cambiare questa immagine creando una nuova immagine stranissimo che si dice al parrucchiere per farsi bella devi imparare a respirare, sì è proprio questo perché il respiro ci aiuta a visualizzare le cose con un pochino di allenamento noi riusciamo a educare una cliente al respiro per visualizzare questa nuova immagine, le nuove proposte per poi fare uno swish, si parla tecnicamente perché all'inizio questa tecnica bisogna farla tutta meccanica, parlare prima per poi intendersi meglio, c'è il blog, i vari esercizi ripeto sempre, non credete mai al Calori quello che dice perché non sono un professionale, sono delle intuizioni che sto portando avanti e stanno funzionando anche perché musicando è un percorso che la cliente segue insieme al parrucchiere per migliorare la sua immagine andiamo a raccogliere poi una sensazione nel passato della persona per riportarlo di lato dove si è sentito al top del top quando uno si è sentito bello però si è scordato noi andiamo a ricordare abbinando la nuova immagine e con vari esercizi andiamo a fare questo swish che quando la persona passa davanti a uno specchio rinasce questa sensazione di sentirsi bene e lui stesso cambia tutta la fisionomia della faccia con le sensazioni, con la coda dell'occhio io questa è una piccola presentazione mi piacerebbe iniziare una discussione in video perché questa è la tecnologia potete anche postarli qui nel gruppo parlare definitivamente se il Calori sa di qualche cazzata o potrebbe essere una genialità che potrebbe cambiare il mondo io credo per il momento come spot pubblicitario per iniziare un lavoro insieme ai colleghi questo gruppo è solo riservato ai parrucchieri e vediamo un po' se riusciamo a fare qualcosa di innovativo al cambio di questa epoca che corriamo grazie, vi auguro buona giornata e buon lavoro a tutti quanti ben